L'esposizione universale, meglio nota come Expo, non è una fiera. È un evento globale a elevato contenuto educativo, focalizzato su un tema specifico. La prima Expo si tenne a Londra nel 1851, mentre nel 1889 Parigi costruì per l'occasione la Torre Eiffel. Oggi, dopo oltre un secolo, gli ideali di Expo non sono mutati. Quindi, diffondere conoscenza, migliorare la condizione umana, consentire l'incontro tra i popoli e far cooperare gli stati. L'Expo si tiene ogni cinque anni. Ogni nazione realizza un padiglione espositivo che riprende il tema dell'Expo, valorizzando così le sue eccellenze scientifiche e culturali, i suoi prodotti e le sue tradizioni. Oggi sono 130 i paesi che hanno confermato la loro adesione a Expo Milano 2015. Nutrire il pianeta, energia per la vita, affronta due grandi questioni del terzo millennio. Creare le condizioni per assicurare un'alimentazione sufficiente e corretta per tutti gli uomini e garantire la sostenibilità, cioè mantenere anche in futuro il delicato rapporto di equilibrio tra uomo, terra, acqua e aria. Il percorso offrirà al visitatore innumerevoli esperienze, dall'agricoltura alla scienza, dall'alimentazione all'ambiente. Expo Milano 2015 sarà un viaggio nella storia e nel futuro. Un racconto avvincente fatto di percorsi tematici, di eventi scientifici e artistici, ma anche di gioco e di educazione per ragazzi e bambini. Il visitatore si muoverà all'interno di un'area dove predominano l'acqua, il verde, gli habitat di tutti i continenti e le più moderne tecnologie per migliorare la vita umana. Dai padiglioni emergeranno tendenze, stili di vita e tradizioni dei vari continenti, con l'obiettivo di condurre l'umanità verso pratiche virtuose in ambito agricolo, alimentare, ambientale. Expo Milano 2015 sarà anche il luogo dove scienziati, governi, tecnici e imprese di tutto il globo pensano a un mondo sostenibile dove natura e sviluppo, innovazione e tradizione sono legati. La qualità e la sicurezza del cibo rappresentano il futuro per l'umanità e la garanzia della pace nel mondo. Combatte la fame nel mondo, eliminare le cause della non corretta alimentazione e prevenire le nuove malattie sociali causate dal troppo cibo è il messaggio che Expo Milano 2015 vuole lasciare al pianeta.